Una forte ondata di maltempo sta interessando la Sicilia orientale dalla giornata di ieri con violenti temporali che hanno provocato danni soprattutto su Catania e provincia. A Messina non sono mancati disagi soprattutto lungo diverse corsie del tram e allagate, la classica carreggiata all'automonte del Vialo della Libertà di via Garibaldi e via La Farina. Tra le zone più colpite, quella al nord della provincia di Catania, ogni naggiarre da Cireale dove sono stati segnalate diverse trombe d'aria a seguito dei violenti temporali. Gravi danni da Cireale con alberi secolari abbattuti, auto ristrutte e danneggiata anche la cattedrale. Allagamenti si sono registrati in particolare a Gravina, Belpasso, Mascalucì e Pedara. Nel Catanese due motociclisti sono stati sbattuti a terra dal violento nubifraggio e dopo essersi rifugiati in un casolare abbandonato nei boschi di Antillo sono stati soccorsi da volontari, vigili del fuoco e trasportati poi al Policlinico di Messina. Alle due anni lunghe code sul tratto colpito dalla frana tre anni fa, trasformato dalle violenti piogge in un lago di fango. La situazione rimane di massima allerta fino ad oggi quando si potrebbero registrare altri eventi di forte intensità su tutta la regione orientale della Sicilia, accompagnati da frequenti attività elettriche e forti raffiche di vento. Si raccomanda quindi massima prudenza alla guida in caso di violenta pioggia.